buongiorno siamo qui con rhapsody rhapsody è una pulida di tre anni che abbiamo in addestramento già da un paio di mesi è un barocco pinto è un cavallo misto tra il cavallo pezzato e il frisone ne abbiamo un'altra qui anche di cavalla sempre in doma allora l'argomento di oggi è la conduzione a mano spesso si conduce il cavallo e magari può capitare che vediamo gente che viene spinta dal cavallo o il cavallo che va a mangiare l'erba quindi strattonata dal cavallo vi do un suggerimento di andare a vedere uno dei miei video sul mio canale youtube dove faccio vedere prima come distogliere l'attenzione dall'erba o dal mangime o da qualsiasi cosa per prestare attenzione a noi perché chiaramente se facciamo la conduzione a mano in un prato diventa un po più difficile quindi prima cosa distogliere il cavallo dalla trazione dell'erba diciamo e poi magari praticare la conduzione a mano quindi il consiglio che vi do chiaramente di andare a vedere quel il video che ho pubblicato tempo fa bene l'argomento di oggi abbiamo detto la conduzione a mano alle volte vediamo gente strattonata dal cavallo o spinta dal cavallo non è una cosa chiara oppure alle volte si vede fare questo allora andiamo lungo la pista o portiamo il cavallo da qualche parte istruttore dice andiamo lungo la pista a mano sinistra fare un po di conduzione a mano la gente si guarda intorno a si mano sinistra parte così e poi guardi c'è un cavallo c'è un cavallo attaccato non l'avevo visto è un po dobbiamo pensare come quando noi camminiamo insieme al nostro partner non vogliamo essere strattonati non vogliamo essere spinti non vogliamo essere il terzo bastone una cosa di appoggio come dire anche cavalli che si appoggiano allora le cose comuni che si vedono fare quando facciamo la conduzione a mano è partire prima senza partire insieme al cavallo quindi cercare questa connessione di partire insieme al cavallo poi le vediamo come e quando il cavallo aumenta la velocità un po magari che non riesce a stare che non segue il nostro passo volevo dire si vede spesso fare questo tirare indietro fare questo questo fa sì che il cavallo vedete porta flette la testa in verso l'interno immaginate che dopo lo vediamo voglio andare lungo la pista dritto e questo fa sì che il posteriore continua a spingere le anche escono e io mi ritrovo il cavallo davanti insomma non ho più la rettitudine cioè non riesco più a camminare dritto con il cavallo si vede spesso persone o spesso si vede ancora persone che hanno vorrebbero andare dritti e per fare 20 metri dritti fanno tre giri col cavallo fanno così fanno questo partono quel cavallo va bene poi il cavallo rimane il cavallo rimane un po un po dietro ora poi il cavallo passa magari avanti a noi e mentre vanno avanti il cavallo va ancora più avanti ancora più avanti frenano il cavallo così è il cavallo per forza di cose dopo è obbligato a fare questo perché viene 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 preso qui così quindi flettendo l'incolatura partono le anche quindi siamo costretti a fare un cerchio e poi andare dritti va bene quindi abbiamo un po di queste problematiche ogni tanto quando facciamo la conduzione a mano e non sembriamo tanto eleganti e non sembriamo tanto insieme al cavallo e come ho detto anche un po nel nei video dove parlo della della sezione degli approfondimenti la gestione di un cavallo per l'appunto può partire deve partire dalla conduzione a mano da quando parto dal paddock o da quando esco dal box o da quando parto dal lavaggio o quando porto il cavallo in lavaggio uguale quando conduco il mio cavallo la conduzione a mano solo nell'arena e poi dopo fuori si fa quello che si vuole diciamo no si rimane su un certo facendo attenzione a determinati principi bene l'attrezzatura che ci serve è un'attrezzatura parelli chiaramente abbiamo una capezza parelli una corda 3 70 non una 7 metri non serve una corda la corda più corta che c'è nel programma il nostro caro stick con il service string che è questo cordino cordino bianco quello che abbiamo bisogno è una staccionata seguire una staccionata e seguirla in un modo con una con un principio con una coerenza mettendo delle non voglio dire regole ma voglio dire mettendo in chiaro dei principi che voglio stare accanto a questa cavalla non voglio che lei mi superi no quando mi fermo voglio vedere se lei ferma i suoi piedi che non avanza e se avanza vediamo come correggere e se rimane dietro di me anche non voglio che il cavallo rimane dietro di me in questo caso voglio che il cavallo non perché sia giusto o sbagliato ma voglio che il cavallo stia insieme a me alla spalla e non sarò io a cambiare il passo io ti erongo un passo e il cavallo si adatta al mio passo perché altrimenti vuol dire che sono io che aspetto lui quindi è importante per essere un leader una guida quindi come una come dico sempre una una guida è come una nonna non il macho man come spiego spesso è importante praticare questa questa condizione a mano stando alla spalla il motivo è perché qui in questo punto qui lo faccio vedere così si vede meglio abbiamo una linea guida ok quindi tutto quello che va davanti alla linea guida qua fa girare o rallentare il cavallo tutto quello che spinge dietro la linea guida quindi abbondantemente dietro qui fa avanzare il cavallo se io faccio questo solitamente cavalli avanzano bene quindi il motivo per cui voglio stare qui vicino alla linea guida è perché posso giocare passi indietro o passi in avanti passi indietro così e passi in avanti così oppure passi indietro anche lo vediamo adesso come cioè voglio mettere la pressione la comunicazione si intende nella nel rimanendo in una posizione che mi consente di gestire sia il movimento in avanti che il movimento indietro e quindi anche di regolare al passo ora lo vediamo lungo la recensione se il cavallo rimane indietro oppure se rimane se il cavallo va troppo avanti allora vediamo vediamo possiamo prendere un nostro caro stick qui possiamo chiedere al cavallo di avanzare insieme cosa faccio questo è pressione della gioco del costante la pressione costante se il cavallo non partiva facevo tap tap sul sederino e li chiedevo di avanzare ok e sono partito insieme al cavallo non so se avete visto ma non ho diciamo non sono partito tirandomi dietro un cavallo sono partito insieme al cavallo quindi la prima cosa da regolare è vedere di di entrare bene negli angoli anche soprattutto mi raccomando entrare negli angoli fare un perimetro bello preciso e sistemare un pochino la distanza la scusate l'allineamento con la spalla quindi questa mano la tendo in avanti come dire vai in avanti tirando un pochino sotto la capezza e forse si vede meglio tiro la capezza e chiedo di andare avanti se la cavalla non va avanti che si mette con la spalla insieme alla mia l'avrei anche dopo toccata con lo stick dietro così ok facciamo finta che voglio fare una piccola partenza al trotto faccio questo tendo la corda e tocco il posteriore della cavalla e parto insieme a lei al trotto questo è per fare un po un esempio è bene di nuovo se la cavalla non si allinea al mio passo cosa facciamo in avanti vedete che la cavalla ha avuto una risposta alla mia domanda alla mia richiesta in avanti non ho dovuto ad operare lo stick quindi il cavallo si dice vince il gioco se non si fa toccare vince il gioco ricordiamoci sempre che con i cavalli possiamo imparare o perdere ma mai vincere i giochi bene ora facciamo un test ora che la cavalla si allineata al mio passo avete visto che non ho cambiato il mio passo mantengo il solito ritmo prova a fare un altine fermo i miei piedi guardo cosa succede benissimo dove è andata a finire la cavalla lì cosa posso fare qua io devo fare una correzione perché devo far capire a lei che ci fermiamo insieme quindi alzo la corda e la cavalla viene dietro e di nuovo la ringrazio ok quindi perché alzo la corda invece di tirarla indietro proprio per il motivo che abbiamo detto prima se tiro indietro la corda il cavallo flette l'incollatura cedele anche mi va magari all'interno e mi spinge anche un po con la spalla alzando la corda manteniamo il cavallo dritto facciamo vedere quindi pressione costante andate a vedere mi raccomando nel programma parelli le fasi le quattro fasi della fermezza pelo pelle carne ossa quindi le quattro fasi iniziamo dalla prima pelo non succede niente pelle carne a bene ha risposto lascio e ripeto pelo bene e ora è più leggera e viene indietro dritta quando rilascio vorrei vedere che il cavallo si ferma ok lo facciamo sia a mano sinistra che a mano destra ovviamente vediamo un po la conduzione a mano quindi di nuovo mi preparo in avanti parto insieme a lei se non va la tocco dietro questa corda ricorda un po diciamo il suggerimento questo è vai dove va il suggerimento ok quindi vediamo facciamo un po mano destra cambiamo di mano anche qua per cambiare di mano potrei fare una mezza volta abituarmi a non fermare il ritmo chiamare il cavallo da me ed essere eleganti anche nel dialogare con un cavallo nella conduzione a mano quindi noi siamo qua andiamo un po avanti stabili stabiliamo la linea di guida voglio stare voglio stare con la spalla insieme alla tua spalla cavallo e rifermo i miei piedi bene la cavalla si è fermata senza che io abbia dovuto fare una correzione la correzione che farò ora è per andare indietro ovvero chiederò dei passi indietro quindi ripetiamo facciamo fase 1 bene bene se la cavalla va così bene ed è leggera posso smettere subito devo smettere subito e ringraziare di nuovo andiamo in avanti in avanti così bene facciamo un po di trotto in avanti bene e come si vede il cavallo diventa responsabile nel mantenere il suo tracciato ovvero la pista numero uno è di rhapsody la pista numero due in questo caso in questo esercizio base proprio la pista numero due è la mia qui di nuovo in avanti e faccio un altro alt vediamo un po fermo i miei piedi ancora più insieme questa volta mentre prima la cavalla scorreva leggermente in avanti quando avevate i miei piedi non ho dovuto fare nessuna correzione con la corda mi raccomando chiaramente provate prima a vedere se il cavallo può stare tra voi la staccionata che sia sereno tranquillo giocate il gioco della strettoia andate a vederlo nel sevi club ci sono sul sito parelli ci sono tutti i giochi spiegati e così vi potete dare un'idea prima di arrivare a fare questo perché già questo è una è già un progetto diciamo è più è già una combinazione dei giochi insieme ok allora rivediamo i passi indietro i passi indietro metterò il mio stick davanti come indicatore dei passi indietro se lo stick è qua indica passi in avanti se è qua già indica di più passi indietro alzo la mia corda lo stick lo tengo qua se il cavallo non va indietro potete anche fare sul petto un po' di ritmica e poi ringraziare con lo stick giocare il gioco d'amici quindi se toccate il cavallo con lo stick sul petto non fa niente di male immaginate che avete un cavallo che non si ferma ok è che tutte e che scusate che non va indietro si ferma ma non va indietro quindi fermo i miei piedi metto lo stick e ben presto il cavallo diventa responsabile delle sue azioni se se tarda a venire fuori la responsabilità lo aiuto lo assisto fase 1 e lo tocco anche sotto il petto e con lo stick ripeto vado a ringraziare il cavallo bene direi che come spiegazione è abbastanza semplice possiamo vedere un po il prodotto di quello che viene fuori e lo vediamo con un cavallo che ne sa molto di più quindi fermo i miei piedi stick davanti vado indietro non faccio niente vedete non faccio assolutamente niente solo dico a lei prendi la tua responsabilità e vai indietro in questo modo avremo cavalli che hanno uno scopo insieme a noi quando facciamo la conduzione a mano più che avere come dire una persona ubriaca da assistere perché ciondola da una parte a un'altra o con un cavallo che mentalmente è da un'altra parte mentre quando facciamo una cosa così già possiamo prendere attenzione possiamo prendere da qualche cavallo se ne abbiamo bisogno possiamo prendere un po di rispetto i passi indietro aumentano un po il rispetto e via via potremo fare passo trotto potremo anche fare un domani galoppo e stando più lontani dal cavallo aumentando la distanza quindi il segui la recensione e la conduzione a mano diventa una responsabilità reciproca bene vediamo un attimino state state connessi qui state guardiamo un attimino perché adesso vediamo un pochino una cosa più evoluta con un altro cavallo con uno dei miei cavalli per vedere anche dove dove possiamo arrivare insomma possiamo arrivare anche un po più avanti di così ok bene grazie mille tra poco ok come promesso siamo qui con uno dei miei cavalli lei si chiama finta tonta chiaramente il nome non non è non le l'ho dato io però la fantasia umana non è non si è non si è espressa nel suo nel suo caso più di tanto allora vediamo una vediamo una comunicazione un pochino più sottile con lei ma prima ancora voglio ribadire l'importanza della conduzione a mano non è solo per avere un cavallo diciamo nell'arena che ci segue nell'arena in un certo modo senza spingersi senza tirare senza frettare il nostro passo è un'altra cosa importante che non ho detto è se quando fate la conduzione a mano avete la sensazione di rincorrere il cavallo che il cavallo sta mettendo un passo più veloce del vostro interrompere subito fermare i vostri piedi alzare la corda dire no 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 e partire col vostro passo tutte le volte il cavallo lo sentite aumentare vuol dire che il cavallo con la mente sta andando da un'altra parte e non è connesso o non è non è si diciamo connesso col vostro col vostro col vostro ritmo sappiamo bene che i cavalli seguono un ritmo gli piace entrare nel in qualcosa di ritmo va bene e quindi siamo noi come leader a dare il ritmo perché se sono loro che danno il ritmo vuol dire che anche quando montiamo voglio fare un trotto medio e questo mi va in un trotto veloce e dopo io devo correggere tirare fare insomma quindi la conduzione a mano serve anche per condurre cavallo nel trailer condurre il cavallo nel lavaggio abbiamo bisogno di una buona risposta al porco spino è la pressione costante qui come ripeto un po spesso nei video che quando faccio questo il cavallo va subito in avanti e abbiamo bisogno di una buona risposta e se il cavallo fa resistenza lavorare sulle queste resistenze senza intimidirlo ma diciamo essere chiari nella comunicazione e dire al cavallo guidare il cavallo nel miglior modo possibile chiaramente col cuore col con la partnership ma mi raccomando anche lì col cuore la partnership è tutto vero c'è la prima cosa da tenere presente ma mi raccomando non non cadiamo nella nel diventare horse lover o mamma mia ho toccato il cavallo con la frusta ho fatto tantam tam sul suo sedere o non si fa per carità di dio insomma troviamo un equilibrio ecco questo voglio dire di certo non si parla di aggredire il cavallo ma se devo picchiare picchiare il senso devo battere volevo dire lo stick sul sedere del cavallo sarà in maniera ritmica e progressiva 1 2 3 viene avanti e questo non dobbiamo pensare che questa è una cosa che il cavallo non capisce anzi gli fa proprio bene lo capisce e poi dopo di che vince il gioco perché quando io farò one magari è già è già insieme a me nel passo va bene vediamo una comunicazione un pochino più più fina quindi è anche un po giochiamo un po con la distanza possiamo veramente un giorno prendere delle corde lunghe stare nel centro del campo è l'obiettivo diciamo lo scopo finale potrebbe essere stare in una linea centrale del campo e fare che sì che il cavallo prenda la responsabilità di andare sulla sulla pista comunque qui siamo lungo la recinzione con finta tonta fermo i miei piedi vado indietro e questa è una comunicazione un po più fina nel senso che non devo fare non ho dovuto fare nessun tipo di correzione e poi sì giusto hai ragione e poi lo possiamo fare lo proviamo a fare in liberty lo proviamo a fare senza niente in varie zone del cavallo poi diventa una cosa dove ognuno di noi può spaziare e dare un po di varietà a questo esercizio ricordatevi 80% consistenza 20% varietà quindi prima una buona conduzione a mano consistente il mio linguaggio la mia la mia la mia conduzione a mano e qui faccio finta di avere la corda faremo in avanti il cavallo parte parto anch'io ok e possiamo incominciare a giocare un po di passo lungo la recinzione un po di trotto bene dentro gli angoli è bene dentro gli angoli vedete girare bene la tua responsabilità diventa ancora maggiore cavallo perché non c'è più la corda che dà dei suggerimenti fisici sul cavallo cioè di contatto qui c'è la liberty è un altro programma bellissimo da sviluppare nel programma farelli in avanti trotto partiamo insieme transizione passo fluida piedi fermi stick davanti passi indietro pausa bene ora mi sembra di essere connesso insieme alla mia cavalla e viceversa lei connessa con me in avanti trotto caloppo trotto passo al passo indietro bene brava e quindi diciamo questa è un po diciamo la una un'area diversa ma diciamo come come poter divertirsi anche insieme al cavallo e creare una responsabilità ancora maggiore nel cavallo e mi raccomando per finire non non fate questo e poi fate la pausa nel centro del campo un altro motivo per cui i cavalli tirano verso il centro perché magari facciamo troppo poco spesso delle pause sulla pista e quindi in questo momento rimarrei qui ammettiamo che ho lavorato cinque minuti prima di montare a cavallo fatto due minuti e mezzo a una mano due minuti e mezzo un'altra il cavallo è a posto passo trotto mi porta rispetto e siamo connessi e montare in questo con questa condizione qui è già sufficiente per avere un cavallo più si più connesso è un cavallo più pronto a ad ascoltare a seguire le nostre i nostri suggerimenti bene andiamo alla telecamera è anche un modo per tenersi allenati insomma a fare footing grazie mille per la vostra attenzione e ci vediamo presto col prossimo video ciao